Musica Ciao ragazzi, questo sabato sono stato lo youtuber creator daily di Bologna dove ho incontrato un sacco di bella gente ma se siete su questo video perché vi interessa del cartomics sappiate che domenica sono stato proprio lì quindi schippate al minuto che vi indico qui per andare a vedere direttamente le immagini del cartomics ma ora andiamo avanti col video Musica Bene, sono ufficialmente a Bologna e sono anche ufficialmente in ritardo perché il treno aveva problemi tecnici problemi di natura di linea che vuol dire tutto un cazzo? comunque dai sei minuti e sono arrivato beh, il poster sembra carino che lusso che marmi allora, borsina di youtube badge che da cui hanno scritto a mano quindi c'era una situazione di tristezza estrema però per fortuna il mio stampato pena di youtube e due soggetti probabilmente noti ai più ciao 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 creato day di Bologna è finito è stato interessante è stato formativo per certi aspetti stanchi 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 sono in macchina sono su una Peugeot 207 non è quella del mio amico Stefano è grigia mi sono trovato in macchina con questi due qua e niente insomma stiamo tornando verso mi stanno dando uno strappo verso Rob Piera perché stanno andando al cartomics loro sono sempre gentili da da farmi la taxi noi siamo bravissimi adesso facciamo delle persone bravi ci salchiamo siamo stanchi passate da loro metterò metterò l'etichetta sul suonato e niente che stanchi ragazzi faccio male alla gola bene sono arrivato alla fine a Fiera Milano Ro da un evento si passa a un altro sono le 5.44 sto per entrare al cartomics c'è già un po' di gente che sta uscendo ma mi rivedo con Stefano e i miei amici a Chiappa Fantasma i ain't afraid of no ghost i ain't afraid of no ghost a Chiappa Fantasma Ciao E adesso abbiamo Considerando che stamattina alle 6 ora a Bolzano Poi alle 10 ora a Bologna Adesso che sono I latali 5 però adesso che sono le 8 Sono a Milano Si può dire che la maggiorata sta abbastanza Impegnativa direi Io Io ho trovato uno io io Benissimo Docciato, lavato Sono quasi le 10 Non avevamo ancora cenato Quindi a breve io, David e Stefano E tutta la banda degli acchiappofantasmi Gospassas Italia Andremo a mangiare in un posto enorme Di quelli che ci sono solo nel milanese E quindi Non so se farò riprese lì anche perché non ha senso Quindi passiamo a domani Eccoci qua Allora sono Le 7 e mezza di mattina L'orario improbabile Volevo dormire di più David è mattiniero e non mi ha fatto dormire di più Ma fa lo stesso Adesso andiamo a fare... Bisogna alzarsi presto la mattina E adesso andiamo a fare colazione Perché Perché ce n'è bisogno Bene Oggi siamo Di nuovo in fiera Questa volta io sono Come una valigia grande Quanto un Airbus 747 E in pratica Oggi è la giornata clou In cui sarò anche in costume Vedremo il palligio E niente Insomma Vedrete tra poco come sarà conciato Questa volta io sono Grazie a tutti Bene, tira finita Il weekend è stato impegnativo perché comunque sabato al YouTube Creator Day di Bologna E oggi al Cartomics qui di Milano Insomma, impegnativino Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like Cliccate da qualche parte per iscrivervi Probabilmente in basso a sinistra Qui E comunque se avete dei commenti scriveteli qua sotto Io vi risponderò di sicuro E niente, ci vediamo giovedì Con il video di Santiago Ciao Ciao Ecco, non so se si vede però a Milano ci sono anche queste cose Lì c'è un giocoliere con il fuoco Buon bacche E Buon bacche Bello Buon bacche